ciao a tutti benvenuti o ben ritrovati nel canale ivi e lascia vivere questa è la playlist salvare più soldi possibili se questo è il vostro primo video ho anche un'altra playlist che si chiama vivere in uk e un'altra ancora che si chiama studio artistico quindi vivere in uk arte e salvare più soldi possibile sono gli argomenti di questo canale e quindi se siete interessati iscrivetevi perché metto l'utilizzo del bullet journal nella playlist salvare più soldi possibile perché al momento in cui noi pianifichiamo la nostra vita un po meglio ovviamente è molto utile e aiuta a salvare più soldi nel senso se facciamo pianificazione pasti ci aiuterà a sprecare meno cose nel frigo a tenere sotto controllo la dieta e quant'altro se facciamo budget e ovviamente riusciremo a tenere sotto controllo la nostra situazione finanziaria ma io questo bullet journal particolare non l'ho preso per la pianificazione per la pianificazione come ho detto più volte in questo canale utilizzo un happy planner che è questo però questo bullet journal che l'ho trovato casualmente e ero interessato davvero perché seconda edizione del bullet journal originale quindi con logo quant'altro l'ho trovato e ho deciso di dedicarlo a una cosa in particolare che è il seguire il mio negozio online so weird so cute e nella prima settimana ho visto notato che non solo non ho voglia di disegnare per il negozio ma riesco a non avere voglia di disegnare affatto e il bullet journal mi sta aiutando a capire come mai perché la pratica del bullet journal ci aiuta a farci delle domande a dire perché io imposto una determinata task è questa task fondamentale per me è utile per me in qualcosa e se non lo è va depennata però io so che per me disegnare è l'attività più importante in assoluto quella che mi fa stare bene in assoluto eppure riesco a trovare scuse per non lo fare questo è quello che abbiamo un po visto nella prima settimana di utilizzo e ora vediamo la seconda settimana la prima era finita al 7 di maggio che avevo disegnato poi avevo fatto il video sulla prima settimana del bullet journal non ho segnalato che l'ho fatto quindi progettiamo la task è fatta cucina al polar care rimette nell'ordine la cucina e quindi iniziamo dal lunedì 8 maggio che avevo il disegnare un'ora e l'ho invece rimosso posticipato va bene poi fare una scena veloce rimettere in ordine la cucina e probabilmente questo è il motivo per cui non ho disegnato ho fatto una litigata con persona orribile bloccare persone orribile da tutti i social e niente quando io litigo con la gente mi viene nervoso tendo essere meno creativa sfortunatamente andiamo al martedì 9 maggio che il disegnare per un ora l'ho fatto ho visto un nuovo cibo per ralph perché ho problemi con il cibo che mi viene fornito attualmente per il gatto va bene e basta il martedì finisce qui con queste sono due annotazioni che ho disegnato un ora e ho visto un nuovo cibo per il gatto martedì mercoledì scusate come vedete lo sto tenendo incredibilmente essenziale ora se io stessi dritta nella fotocamera sarebbe meglio come te lo tengo proprio molto molto essenziale perché cerco di utilizzare effettivamente la tecnica dell'inventore del bullet journal ok quindi al momento non ho fatto nessuna altra pagina niente disegni niente come detenite decorazioni comunque andiamo a mercoledì 10 disegnare per un ora l'ho fatto fare dei spiedini di pollo e prenota paint club e il paint club ragazzi è una diciamo attività sociale si può dire nel senso che qua a brighton c'è ma fondamentalmente lo fanno in diverse città inglesi c'è questi gruppi che si ritrovano un pub e che insomma si dipinge tutti insieme un soggetto per un paio d'ore e questo aiuta a conosce gente a cui piace dipingere ragazzi fondamentalmente sempre meglio cercare di socializzare con persone che hanno i nostri stessi interessi poi è vero che gran parte della gente non ci va da sola come faccio io ci va già con gruppi di amici quindi chiaramente è più difficile socializzare anche nei gruppi in cui si dovrebbe socializzare però alla fine qualche parolina te la scambi e magari anche osservi qualche persona che un modo interessante di dipingere comunque la paint club l'ho prenotata a disegnare per un ora questo il giovedì disegnare per un ora ha fatto e ho scritto riesco a disegnare praticamente tutto quello che mi metto in testa di fare ma per qualcuno non merito abbastanza questo perché praticamente mi avevano cazziato sul lavoro sul progetto perciò vabbè facciamo perdere a cercare auto noleggio per le ferie non l'ho fatto e fare il mio plan ok venerdì 12 maggio fare un massaggio facciale non solo non l'ho fatto ragazzi ma non l'ho mai fatto poi assolutamente purtroppo la self care è qualcosa in cui io sono molto negligente io purtroppo molte ore al giorno lavoro e quindi altre attività specialmente la self care la metto da parte quindi tutto quello che riguarda il fassena mascherina fatto qualcosa non riesco a dargli nessun tipo di priorità nella mia testa e faccio qualsiasi altra cosa ma però io sono consapevole che adorrei fare però disegnare un ora l'ho fatto cercare un auto noleggio per le ferie anche questo ho rinunciato dopo un po e lo farò però non riesco a farlo mi entra sempre qualcosa nel mezzo e non lo faccio poi non sono felice che sia arrivando il weekend il weekend non è che mi siano mai piaciuti in maniera particolare poi ho scritto infatti meglio andare a lavorare in caffetteria anziché in casa che anziché stare in casa va bene il sabato disegnare un ora l'ho fatto iniziare dei ricone per il lavoro non l'ho fatto fare lasagne per domani vai da b che è una mia amica se non ti senti bene l'ho già chiamata dicendo guarda se questo fine settimana in tipo impazzesco ti posso passare a trovare a mettere via pensieri negativi concentrarsi sulle cose positive ecco questo me lo dovrei tipo scrivere in un muro di casa con la bomboletta spray il 14 disegnare un ora l'ho fatto e come vediamo ho disegnato un ora ogni giorno infatti si vede anche dal nostro habit tracker che 1 2 3 4 5 6 giorni consecutivi ho disegnato e probabilmente oggi che è il 15 disegna disegnerò anche oggi perciò il mio obiettivo di disegnare ogni giorno almeno un'ora l'ho raggiunto però e però quando disegno un ora in realtà disegno molto di più difficilmente disegno un'ora sola per quello che poi non faccio nient'altro però non mi interessa sacrificare qualunque altra cosa per disegnare allora disegnare un ora sarà il 14 penso portatore al far parco questo sono note che ho fatto dopo aver finito la giornata generalmente io utilizzo il bolle giorno di mattina durante la mia morning routine però domenica l'ho utilizzato la sera e quindi ho scritto nelle note in cui con questo simbolo che si indica alle note ho scritto quello che in realtà ho fatto durante il giorno quindi portatore alfa al parco non si spaventa di niente il mio gatto interessante video di fra frock sulla tecnica su mina gasci che pronunziato in giapponese dimenticato di fare il video sulla seconda settimana di bulle giorno c'è questo video che sto facendo in questo momento perché ho perso la coniezione del tempo disegnando inoltre non lo avevo messo nelle tasche infatti c'era soltanto disegnare un'ora nelle tasche il che non ha aiutato a ricordarmene non mi ha aiutato a ricordarmene e qui poi siamo si arriva come al solito a oggi oggi lunedì pianificare viaggio maledetta autonoleggio ancora ragazzi non l'ho fatto fare video sulla seconda settimana bulle giorno e pubblicarlo in giornata e questo lo sto facendo disegnare un'ora lo farò probabilmente dopo cena giornata strapiena fai una cena veloce e senza stress perché inutile che mi metto a scongelare un pezzo del vitello e fa il brasato se sono comunque stressata un po lo stretto con i tempi per la seconda settimana ragazzi quindi questo è rispetto alla prima o disegnato praticamente ogni giorno perché non ho mai disegnato con l'intento di disegnare per il negozio cioè questo bulle giorno e l'ho fatto l'ho iniziato per il desiderio di riuscire a lavorare in modo efficiente per il negozio e tutto quello che voglio fare è qualsiasi cosa tranne che lavorare in maniera efficiente per il negozio cioè quando io penso a creare qualcosa per il negozio non riesco a disegnare niente questa settimana che diciamo tirato i remi in barca e non ho voluto pensare al negozio fatto altre cose e ho disegnato tranquillamente ogni giorno e quindi appunto penso che sia un discorso di paura del giudizio degli altri o di venire ignorata nel negozio sì che ho ricevuto dei commenti tipo non ti preoccupare oppure magari il negozio non è ben visibile perché comunque Etsy è super saturo ragazzi e questo per carità è vero però evidentemente c'è una paura del giudizio in questa mancanza di attività fondamentalmente io ho tutto da guadagnarci nel mettere dei lavori su Etsy perché se vengono ignorati non mi cambia niente fondamentalmente ma se qualcuno me li compra sono una soddisfazione sono dei soldi in più pochi perché comunque utilizzando un print on demand il grosso dei soldi andrebbe a quello però è un diciamo una bella sensazione pensare che qualcuno si è comprato per appendersi in casa qualcosa che hai creato tu comunque no e devo lavorare su questa cosa quindi io penso che piano piano riuscirò a riprendere intanto l'abitudine di disegnare ogni giorno studiarmi nuove tecniche per disegnare meglio e più velocemente e ritrovare un po' la creatività e riuscire a creare qualcosa di interessante e anche vendibile e spero penso che di essere nella buona strada io condivido questa esperienza col bullet journal facendovelo vedere tutto per vedere se è d'ispirazione su per qualcun altro per vedere se è vero che aiuta come si legge insomma nel libro su bullet journal che questa pratica aiuta a fare chiarezza sulla propria insomma vita impostazione di vita io per quanto mi riguarda nella mia opinione sulla mia vita è che lavoro troppo fondamentalmente e che penso che sia una cosa che affligga praticamente quasi tutti quelli che devono lavorare per vivere ragazzi e nel lavorare troppo chiaramente poi dopo subentra l'essere esausti per riuscire a impegnarsi su altre cose è quello che molto spesso non riesce a sviluppare dei progetti personali per le mille mila ore che uno si è già impegnato nel dover fare altre cose insomma nel dover fare l'attività lavorativa comunque mi sento più positiva questa settimana sono soddisfatta perché appunto ho disegnato ogni giorno e piano piano riuscirò a fare anche tutto il resto per quanto riguarda questo la pianificazione del viaggio non me ne frega niente ragazzi cioè stranamente non me ne frega niente cioè io delle vacanze non me ne frega più nulla penso che farò questo viaggio quest'anno e poi dopo penso che mi muoverò da casa solo per vedere i miei genitori punto non riesco più a essere felice di viaggiare questo io penso che dipenda da una paranoia venuta fuori dal coronavirus secondo me che mi ha tolto la gioia di viaggiare prima ne avevo molto di più dalla volta che sono quasi rimasta bloccata all'aeroporto di Pisa quindi stranamente sono particolarmente indifferente al fatto di viaggiare ora questa volta viaggerò però dopo di questo mi rendo conto che ho perso interesse attualmente e niente dovrò appunto riguardare il discorso della self care quindi del prendermi cura di me e del mio corpo di più perché lo sto tralasciando comunque appunto l'obiettivo che era quello di ritornare a disegnare in modo regolare per questa settimana diciamo che è stato raggiunto ragazzi e quindi ci vediamo la prossima settimana con il video sul bullet journal e vediamo se trovo qualcosa di interessante da creare per un altro video questa settimana però non lo so se non trovo niente da dire come sapete preferisco tacermi e quindi se non ci vediamo più per questa settimana alla prossima con la terza settimana in compagnia del mio bullet journal ciao